Ah, com'è leggero questo computer. Quanto dura la batteria di questo computer? Wow, ma questo computer è favoloso. Uè, buongiorno ragazzi! Beh sì, sono col mio nuovo computer, il mio PC portatile. Sì, mi state chiedendo se il MacBook Air? No, non è né quello vecchio né quello nuovo. Sì, assomiglia tantissimo al Mac. Diciamo che è identico. Stessa forma, stessa leggerezza, stesso materiale. Cambia il nome, cambia il costo. Beh ragazzi, sto parlando del Jumper Pro 3. Eh sì ragazzi, è un computer cinese, è un computer che esteticamente è bellissimo. Sì, è la stessa... è il clone, si può dire esteticamente. In giro, se gli mettiamo la mela davanti, sembra proprio il MacBook. Favoloso, pesa solo 1,3 kg. È sottilissimo, come vedete. Ha tutto quello che serve. Un design veramente favoloso, spettacolare. Si tiene con due dita, è leggerissimo. Batteria da 9.000 mAh. Al suo interno ti permette di fare almeno 6 ore di utilizzo tra editing, video, video in full HD, in 4K, Word, Excel. Io l'ho testato per un mesetto. L'ho voluto testare bene, 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 perché era troppo bello per essere vero. Perché mi è arrivato un mese fa, l'ho guardato, ho detto, wow, che figo. Costa pochissimo, perché costa dalle 200 alle 250 euro. Dipende da dove lo andate a comprare, ragazzi. Su Amazon lo trovate intorno alle 250 euro. È un prodotto che veramente è bello anche per chi fa un lavoro magari elegante, perché è sottile, è molto bello come è fatto, il suo colore è tutto fatto in alluminio. Vi faccio vedere l'interno, voilà. Non si apre come il Mac con un solo dito come fa Andrea Galeazzi, però ragazzi, costa quello che costa. Allora, pannello è un 13 pollici IPS e un full HD. Questo già mi ha sorpreso, perché per il costo è veramente eccezionale. La tastiera, io mi ci trovo veramente bene, ha una corsa non troppo lunga. Ora, riesco a scrivere dei testi abbastanza lunghi senza stancarmi, senza trovare o sbagliare comunque a digitare, a pigiare qualche tasto rispetto a un altro. Il trackpad risponde bene. Una cosa forse negativa che ho trovato, che tanti possono trovare anche comodo, anzi qualcuno ha sentito che gli è piaciuto, che il trackpad è abbastanza ruvido. Questa cosa non mi fa impazzire. Io preferisco più quando è liscio, tipo come il Mac o altri PC, ma tanti l'hanno gradito per una questione di grip. Io invece il fatto di sentire un po' ruvido qui mi dà un po' fastidio, ma possiamo sorvolare. Tutto sommato il PC è... anzi tutto sommato, io devo dire che questo PC mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso veramente tanto, perché mi aspettavo veramente una cagata. Come vedete lo tengo in mano e non pesa nulla. Esteticamente è favoloso, è rifinito veramente bene. La cosa bellissima poi è che all'interno di questo PC non c'è nessuna ventola, quindi il suo utilizzo è completamente silenzioso. Lo potete usare di notte, lo potete usare quando volete, non sentite niente. È sempre abbastanza freddo come PC, tranne quando ho provato a editare un video di 11 minuti, che lo fa senza problemi, perché al suo interno io ho installato Photoshop e funziona alla grande. Sony Vegas, quello che uso per il mio PC fisso, e va alla grande, naturalmente senza effetti particolari ragazzi. Alcuni tagli sotto una musica e qualche piccolo effetto particolare e lui riesce a editare, quindi senza nessunissimo problema. Riesce a editare. Quando ho editato video di 10 minuti, quindi un po' lunghi, un po' impegnativi, qui al suo, qui verso quest'altezza qua diventa un po' caldo, ma nulla di che, nulla di che. Quindi devo dire che sono rimasto sorpreso, perché l'ho usato per un mese e l'ho usato per lavoro e per divertimento. La cosa figa è che non pesa niente, è piccolino, lo porti dappertutto. Se si rompe, dispiace, ma relativamente non hai speso 1000 euro. La batteria mi permette di... almeno io l'ho utilizzata dalle 5 alle 7 ore. Dipende da come lo usavo, però ho provato anche a usarlo solo per lavoro, quindi Excel, YouTube, guardare un po' di filmati, un po' di appartamenti, un po' di preventivi. 7 ore tranquille. Quindi questo computer mi permette di coprire l'intera giornata lavorativa, perché non è che sto 7 ore sul computer o 9 ore. Quindi 7 ore di utilizzo vero mi permette di completare la mia giornata lavorativa, senza portarmi carica batteria, me lo porto dietro, leggerissimo, e riesco a fare tutto. Quindi la batteria promossa. Il suo processore. Il suo processore è un Intel Apollo, che come frequenza è un 2.4-2.5 GHz. Ti permette veramente di... è ottimizzato, è molto ottimizzato, è un processore che non scalda, infatti non c'è bisogno di ventoli. Quindi è un processore che è ottimizzato per fare quello che è chiesto di fare. Questo PC è nato essenzialmente per andare su YouTube, guardare un film su Netflix, per Word, Excel, fare qualche calcolo. Io l'ho testato pesantemente su un video editing e va benissimo. Quindi diciamo che questo processore mi ha anche stupito, perché ti permette di fare veramente tantissime cose nei limiti. Non ha la velocità di un i7, ma ti riesce a fare... riesce a fare qualsiasi cosa. Lo puoi portare in spiaggia, lo puoi portare dove vuoi. È un tablet con più funzioni. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno, che porte abbiamo a disposizione. Vediamo se mette a fuoco. Ok, allora qui abbiamo un ingresso USB 3.0, qui abbiamo il jack per le cuffie, qui abbiamo una grandissima figata, abbiamo l'ingresso di una microSD fino a 128GB. Qui possiamo espandere comunque la memoria di questo portatile. Adesso vi spiegherò anche il perché. Da quest'altra parte abbiamo un altro ingresso USB 3.0 e di qua abbiamo un mini, vediamo se mette a fuoco, eccolo qua. Qui abbiamo il mini HDMI per poterlo collegare magari a un televisore e di qui abbiamo il jack, l'ingresso per ricaricare. Io l'ho attaccato una USB per il mouse e qui ho una USB libera. Vi stavo spiegando un attimino la microSD espandibile perché all'interno abbiamo 6GB di RAM e anche qui sono rimasto sorpreso, senza parole. Un PC che costa così poco, fatto in alluminio, con un pannello full HD, IPS. Abbiamo anche 6GB di RAM che servono tutti, ti permette di girare e di fare qualsiasi cosa, qualsiasi programma. Oltre quello abbiamo una memoria ROM veramente bassa, 64GB. 64GB per l'utilizzo che ne faccio io bastano e avanzano, specialmente se compri questo PC, che lo compri per lavori leggeri, 64GB ti bastano. Ma volendo poi aumentare con una microSD all'interno, oppure abbiamo lo sportellino come vedete, qui, e possiamo mettere un SSD M.2, magari con una piccola modifica che sul tubo trovate tutte le spiegazioni possibili. Io l'ho fatta, ho fatto una piccola modifica, tagli due pezzettini di plastica e ci metti l'SSD M.2. E puoi aumentare la sua portata di memoria, ma personalmente un PC del genere, per quello che serve, gli metti o una scheda microSD, oppure ti porti su un hard disk esterno, lo colleghi. Questo PC, ragazzi, lo consiglio a tutte le persone che non hanno soldi per arrivare a determinati portatili, come quelli del Mac, che sono favolosi ma costano. Questo è un ottimo PC per le persone che hanno bisogno di grandissima autonomia di batteria, hanno bisogno di leggerezza, di eleganza, perché siamo ai livelli del Mac come bellezza. Quindi un 13 pollici. Chi ha bisogno di guardare dei film, a persone che vanno all'università, a persone che vogliono fare piccoli editing, anche per chi inizia su YouTube, questo computer va benissimo. Girano anche determinati giochi, se volete, non sono qui a provare, perché non è nato per giocare, ma ci puoi giocare. Quindi è consigliato a tutte le persone che hanno pochi soldi, vogliono un PC bello da vedere, che funziona bene, funziona molto bene, che riesce a fare tutte le cose. Testi, Word, Excel, Photoshop, fotoritocchi, editare anche determinati video e guardarsi dei film con una grandissima autonomia. Quello che devo dire è che ho chiuso e aperto un sacco di volte il monitor. Non c'è display, non c'è nessun rumore, non c'è nessun cedimento. La cosa bella è che tanti computer, quando li tieni in mano, il suo pannellino va giù, invece le cerniere, devo dire, sono molto rigide. Un audio, forse l'audio è l'unica sua pecca, però, vabbè, se lo tenete sotto una base solida, riesce a dare... Si sente abbastanza bene, non è uno dei migliori, però con un paio di cuffie, ma anche così va bene. L'ho testato anche per vedere dei film e delle partite che sono molto impegnative in streaming e mi sono visto tutte le partite senza nessun problema. Anche lì la batteria si è comportata bene, anche lì il PC si è comportato bene. Ragazzi, io ve lo straconsiglio, ve lo straconsiglio, se volete spendere dalle 200 alle 250 euro. Un portatile veramente eccezionale, un portatile che non ha nulla di invidiare, ha portatili molto più costosi se non avete grosse pretese. Quindi, se volete fare dei piccoli fotoritocchi, se volete andare su Excel, Word e compagnia bella, se volete fare dei piccoli video editing, se volete vedere dei film perché ha un ottimo pannello, un IPS, 1080. Ragazzi, comprate questo PC perché veramente è spettacolare, spettacolare. Come sempre, sotto vi metterò il link di Amazon per l'acquisto diretto. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto qualcosa fatemelo sapere qui sotto, se volete altre informazioni scrivete qui sotto. Vi lascio il link sotto. Come sempre, ci vediamo alla prossima recensione, un bel mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo PC. Magari se il prossimo lo regalano è meglio. Ciao, beggi!